Forza M.U. Stavi baciando la mia mano. E tu allora con tutto il pelo che perdi? Non è vero. È vero. Pallone gonfiato. Ti darò del filo da torcere quest'anno. Non puoi neanche sperare di competere con me. La caffetteria della M.U. Gli chef migliori del mondo. Benvenuti al corso base di spavento. Non serve studiare come si spaventa. Si fa e basta. Non ha affatto torto. Dovresti frequentare gente più alla tua altezza. Puoi entrare nella Usmakappa. Abbiamo una torta. Se non sei spaventoso, che razza di mostro sei? Io sono Art, studente di filosofia New Age. Qui puoi scrivere i tuoi sogni. Cos'è, uno scherzo? I giochi dello spavento. Una competizione di spavento super intensa. Potresti anche morire. Ve ne vale la pena. Ma se lei perde, dovrà lasciare la Monsters University. Va bene. I confratelli della Usmakappa, conosciuta come Oimee Kappa. Io ho un dito dei piedi in più. Non con me, ovviamente. E cominciamo con la prima gara. Buona fortuna, ragazze. Grazie. Vi ridurremo a pezzettini. Via! Ha due ali enormi e grida. Non si azzardi! Scava in profondità dentro te stesso e libera lo spavento! Stasera festeggiamo come degli spaventatori! Non posso fare tardi il primo giorno!